Un uomo sta per affrontare il suo più grande avversario. Nicolosi 4 da Nicolosi 3. Mi sto legando più a est e tu sali più a nord. Da questo momento ci separiamo, d'accordo? Un avversario temibile, invincibile, incontrollabile. Un uomo sta per sfidare la natura. La natura è una natura. Immaginate adesso, sotto una bocca, qui a queste quote, un'esplosione all'improvviso. Ecco, credo che mi impegnerei come ex atleta a una fuga immediata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.